Ben ritrovati, eccoci il nuovo appuntamento con l'economia. Questo programma si chiama MonetaM, però paradossalmente non abbiamo parlato della moneta proprio di per sé. Quindi oggi rispondiamo a una domanda. Questa banconote che ho in mano, spero che la vediate bene, è vera? Possiamo considerarla vera, falsa? E vediamo un po'. Allora, un paio di trucchi per, o per lo meno, non tanto per capire se è vero o meno, però cerchiamo di capire qual è la struttura di una banconota reale, così per avere qualche arma in più, eventualmente se doveste avere qualche dubbio. Allora, innanzitutto, la prima cosa è l'aspetto tattile, come dire. Cioè, la consistenza della banconota euro è particolare, quindi difficile da ricreare rispetto a qualche tentativo particolare. Però, ovviamente, questo lo si può capire, normalmente, quando si ha la possibilità di confrontarla con un'altra banconota. Allora, è laico che nascono, eventualmente, dubbi o possono essere risolti, qualche dubbi che si possono verificare. Però, l'aspetto visivo, chiaramente, è quello che ci aiuta maggiormente. Allora, vediamo di analizzare in maniera più dettagliata. Allora, vediamo un po'. Questa è una banda olografica, che è presente sulle banconote da 5, 10 e 20 euro. Questa è da 20 euro, chiaramente. In questa vi troviamo 6 ologrammi, quindi sono delle immagini che, a seconda di come viene orientata la banconota, viene visualizzata un'immagine diversa. In questo caso abbiamo, alternativamente, il simbolo dell'euro, che tutti più o meno conoscete, e l'importo della valuta, in questo caso 20, chiaramente. E quindi, già qua, se c'è, non vedete questo gioco, come dire, di luci, di colori, perché, chiaramente, facendo in questo sistema, doveste vedere un effetto colorato, ecco, se già qua non vedete questo, è un segnale. Poi, tra questo, l'importo della banconota è presente su più lati. Questo è il lato più grande, ovviamente, questo è il più evidente. Poi c'è uno qua, in alto, a sinistra. Però non è completo. È scritto in parte, perché sul retro, che poi vedremo, c'è impressa la parte restante. Quindi, per vedere bene questo numero, bisogna vederlo contro luce. Quindi, una cosa, un consiglio, è cercare di vedere contro luce la banconota, perché si possono apprezzare determinati dettagli che altrimenti non si farebbero. Se mi state seguendo, potete avere, se avete una banconota, chiaramente, a portata, potete mettere la banconota tra voi e il vostro schermo, e la luce del monitor farà, appunto, il ruolo della luce del sole, o comunque qualsiasi luce artificiale ci può aiutare in ciò. E dovreste vedere, chiaramente, il numero 20 comparire. Chiaramente, se lo vedete un po' sgranato, non particolarmente ben allineato, questo è un altro segnale. Oltre a ciò, in questa banda bianca, dovrebbe apparire, sempre ponendo la banconota davanti a una fonte di luce, una riproduzione della finestra, che invece trovate qui. Le banconote sappiamo che, normalmente, raffigurano le figie di una personalità del paese nel quale queste banconote fanno parte. Per l'euro era più difficile fare una ragione di questo tipo, quindi si è deciso di scegliere un elemento neutrale, in questo caso le finestre. E quindi, in ogni banconota, troveremo un stile architettonico particolare relativo, appunto, a questo elemento. Così, come lo vedete, così deve riapparire all'interno di questa fascia bianca. E a fianco, quindi, un po' più in là, se riuscite a vedere, oltre a ciò, si dovrebbero vedere quattro fasce scure, equidistanti, chiaramente. Tutte cose che, a un primo avviso, non si dovrebbero vedere, ma, appunto, con un esame dettagliato si possono affrontare. Inoltre, in basso, sempre a sinistra, è riproposto un'altra volta il numero, con a fianco la scritta euro, sia nelle caratteri, diciamo, noi consueti, e in sotto, nei caratteri grechi. Questa fascia marroncina che vedete, in realtà, se agguzzate bene la vista, avvicinate bene la banconota ai vostri occhi, in realtà non è una fascia colorata, ma sono dei caratteri miniature, ovviamente non ben visibili a occhio nudo, quindi se avete una lente di ingrandimento vi può aiutare, potete verificare ciò. Altro strumento, come dire, di tutela, di controllo, come dire. Inoltre, vicino a questo, a questo, se ha questo numero, c'è come un trapezio. Questo non è disegnato, ma in realtà è qualcosa di ruvido. Se fate questo movimento, se grattate, diciamo, questa forma geometrica, doveste sentire, doveste una sensazione di attrito, come dire. Questo perché sono dei fogli che sono stati pressati insieme, quindi hanno una diversa consistenza. Chiaramente, l'usura, l'utilizzo, e se è capitato, perché può succedere, vengono lavati in lavatrice, questa consistenza va a perdersi, quindi non preoccupiamoci subito se non verifichiamo ciò. Inoltre, qua, in alto, c'è la firma del Presidente della Banca Europea. Anche qui un'annotazione, l'euro ormai è in circolazione più o meno da dieci anni, e quindi non avremo sempre la medesima firma, ce ne sono al momento almeno due. Giriamo la banconota. Ovviamente c'è il numero di serie, è riportato in due volte, qua in alto e qui in basso. Spero si veda, chiaramente, se no, se avete in mano una banconota, potete vedere da voi. Si vede chiaramente la cartina dell'Unione Europea, affiacato un ponte, anche questa è una similitudine, una legaria che si volete utilizzare, il ponte è come unione tra popoli, quindi in ogni banconota vedrete un ponte con uno stile architettonico diverso. Gli ultimi caratteri che vi voglio segnalare sono, innanzitutto, c'è una banda coloro scuro, che è proprio all'interno della banconota stessa, non si vede. È leggermente decentrata verso la destra, anche questa, se la guardate bene, recca l'importo e la scritta euro. E a fianco a questa, più evidente, perché è quasi iridescente, una banda, anche questa riporta sempre questi dati, perché è tutto sommato quello che ci interessa, che è più evidente, diciamo. Quindi, parole povere, quando vedete che non ci sono tutti questi dati che vi ho raccontato, o qualcuno li avrete sicuramente già notati, qualcun altro forse una prima volta che li notate, può darvi un sospetto che ci sia qualcosa che non va. Per quanto riguarda le banconote da 50, e così come quelle da 100, molte delle cose che ci siamo raccontati vanno bene, c'è qualche particolarità. Innanzitutto, non abbiamo più la banda olografica, ma semplicemente un logo. In questo caso, il gioco di luce è limitato a il valore della banconota, in questo caso 50, e la riproposizione di questa finestra che abbiamo qui. Ecco, non più il simbolo dell'euro come avevano le banconote di prima. Dalla parte retrostante, vediamo come al solito la cartina dell'Europa, il ponte, eccetera, l'importo della banconota è stampato con un inchiostro particolare, che a seconda di come viene orientato e anche dal gioco di luce che ci ritroviamo ad avere in base alla stanza o all'aperto, cambia colore. Quindi se passiamo da un color rosso-porpora a un colore quasi sul tendente sul verde, sul giallo-oro, eccolo, quindi particolare. Bene, queste sono tutte, come dire, delle piccole cose che vi ho voluto così dire per sapere se eventualmente doveste avere dei dubbi. Chiaramente, se anche un esame di questo tipo vi lasciasse qualche dubbio, non esitate a chiedere istruzioni o consigli eventualmente a qualche sportello bancario, sappiate che se c'è il dubbio, toglietevelo perché altrimenti ci sono dei problemi, quanto anche se in buona fede voi doveste utilizzare una banconota falsa, questo per la legge è un problema, bisogna comunque denunciarlo, la Banca d'Italia è un procedimento lungo che adesso non vi sto a raccontare, comunque è meglio evitare tutto questo profilarsi, quindi eventualmente, se avete dubbi, chiedete. Bene, con questo concludiamo, io vi ringrazio e spero che questa lezioncina così possa esservi d'aiuto in un momento futuro, io vi rimando come al solito alla prossima puntata, martedì prossimo, sempre al medesimo orario, il luogo non lo sappiamo ancora, ma verrete informati a breve, e con questo vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Boracond TV. Buon proseguimento e buona serata a tutti, grazie.